Benissimo, siamo arrivati a Vincenzo Albanesi, su Beauty. Vincenzo Albanesi, anche lui è una vecchia conoscenza di queste gincane. Cavaliere esperto, sviluppato sempre dalla categoria top, se così possiamo definirla. La categoria open, quest'oggi per un numero ridotto di cavaliere abbiamo effettuato una sola categoria, quindi lo consideriamo un vero e quattro special event. Benissimo lo spostamento laterale, ragazzi un applauso per la velocità e l'attività di questa cavaliere. Siamo già arrivati al panel, lo aggredisce già fin dalla prima boa. Vi ricordo che qua si compone un vero protefione per poter dare vita poi all'esercizio seguente. Spesso molto tecnico perché prevede l'arresto immediato del cavallo, il movimento laterale, e a seguire l'ingresso alle barriere a terra, una piccola imprecisione nella prima barriera. Siamo già arrivati al vento con il suono della campanella, rapido, rapidissimo Vincenzo, che si porta al secondo side pass. Lo spostamento laterale molto tecnico dove il cavallo danza. Benissimo l'ingresso alla strettoia e chiude in 1.33.71, ripeto 1.33.71 e il tempo di Vincenzo Albanesi. Non aspettare eventuali penalità.